Allora, io mi chiamo Ezza Tehrani, sono di origine iraniana, vivo in Italia da più di 50 anni, sono laureato a Bologna in farmacia, ho studiato 5 anni medicina. Non appartengo a nessun partito politico, però alla politica vera e reale ci credo. Io sono per l'unità del genere umano, quindi qualsiasi cosa che può cominciare a portare dell'unità e unione a me piace. Quindi appena ho sentito la fusione dei comuni ho detto sì e sto lavorando perché questo si realizzi. Non sono contro nessuno ma difendo l'ideale, difendo il concetto di fusione che penso che sia un piccolo passo verso la mondialità. Detto così forse potrebbe anche non essere molto chiaro perché come avete sentito io ho detto io sono per l'unità del genere umano. Quindi questo potrebbe essere un piccolo passo verso a unioni più grandi, alle fusioni più grandi. 50 anni fa era impensabile pensare a un'Europa unica, oggi lo abbiamo. Qualcuno ha lanciato l'idea, molti erano contrari, oggi tutti obbediscono alle leggi, fra le virgolette, che vengono emanate da questo organismo europeo. Quindi in questo senso io sto lavorando e accetto qualsiasi tipo di proposta che può venire in questo senso. Grazie.